Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono anche attiva su Facebook. Trovate il link in infobox, lì su Facebook troverete altri video, alcuni assolutamente inediti che non sono mai usciti sul canale, altri invece che sono già usciti sul canale, ma più corti. Detto questo, diamoci dentro col video. È l'autunno del 2010, ci troviamo nel comune di Boardman, nella contea di Mahoney, considerato uno dei luoghi migliori in cui vivere dell'intero stato dell'Ohio. La città offre un'atmosfera suburbana, ci sono molti ristoranti e parchi e la maggior parte dei residenti possiede una casa di proprietà. Brandy Rosin, la protagonista di questo caso, ha 18 anni ed è una studentessa con diversi interessi. Ama la matematica, l'inglese, la scrittura, sa disegnare e suona il contrabbasso nell'orchestra. Brandy ama follemente la musica, ogni occasione è buona per suonare e per fare battute. La ragazza è spensierata, ma alcune cose le prende molto sul serio. Studia sociologia nella Youngstown University, vuole specializzarsi nel campo delle scienze umane. Ha anche dei problemi di salute, è diabetica. Brandy si trasferisce da sua nonna per essere più vicina all'università e trova il coraggio per fare il coming out. Per Brandy è dura, la preoccupa cosa potrebbero pensare i suoi cari di lei dopo questa rivelazione. Ma il coming out non si rivela così tremendo come Brandy credeva. Anzi, sua mamma l'aveva già capito da molto tempo e accetta tranquillamente l'orientamento sessuale della figlia. Per gli amici di Brandy non è un problema, anzi sono contenti che finalmente si è riuscita a liberarsi e a raccontare questa parte importante di sé. Le vogliono tanto bene e le stanno vicino. I nonni di Brandy invece ci mettono un po' per capire e accettare la sua situazione. Ma di base amano la loro nipotina e poco importa se le piacciono le femmine. Non cambia nulla, resta pur sempre la loro amata Brandy. Brandy è una ragazza estroversa, adora i social ed è solita sentirsi con persone diverse in varie chat di incontri. La ragazza stringe diverse amicizie, molto alla mano e parla con tantissime persone, si confida con loro. Ma arriva una sera in cui Brandy viene contattata da una ragazza di nome Jade Homestead. Il tutto nasce come un'amicizia, ma ben presto le due si rendono conto di piacersi molto. Sono solite passare notti intera a parlare su Skype. Poco tempo dopo decidono di incontrarsi dal vivo e si mettono insieme. Brandy ama particolarmente le moto e le macchine veloci e dato che abita in una zona ricca di boschi, spesso esce con la sua moto e si diverte a sfrecciare nelle zone fangose, in solitaria. Quando Jade entra nella sua vita, prova a convincerla ad unirsi a lei e le dice che ha un casco in più, che le piacerebbe tanto fare un giro con lei. Ma la ragazza preferisce stare davanti alla televisione, piuttosto che avventurarsi nei boschi con Brandy. Jade in effetti ha un carattere molto più riservato, è taciturna ed è molto timida, tenta di farsi piacere la stessa musica di Brandy e finge di avere i suoi stessi interessi. Insomma, vuole solo essere accettata e amata, avrebbe fatto qualsiasi cosa per avere affetto. Inizialmente la sorella e la mamma di Brandy apprezzano Jade, ma ben presto notano un lato di lei che non riescono proprio a farsi piacere, nonostante ciò accettano il fatto che Brandy sia felice e cercano di mettere da parte i loro sentimenti. Inoltre Jade non riesce a venire a patti con la propria identità, forse per come è stata educata. Il padre di Jade non ha mai sostenuto la ragazza dopo il suo coming out. I suoi genitori sono più interessati a bere e a fare uso di sostanze, piuttosto che prendersi cura di loro figlia. I genitori di Brandy sono convinti che Jade non sia serena e spensierata come dovrebbe, anche a causa della sua vita familiare. Brandy però è una ragazza generosa e vuole prendersi cura di Jade, è la sua ragazza e prova un sincero affetto per lei. Così Jade si trasferisce a casa di Brandy. In realtà avrebbe dovuto stare a casa della ragazza solo una notte, ma alla fine si stabilisce lì. La sorella di Brandy si trova molto bene con Jade, spesso loro tre escono insieme, giocano a carte oppure guardano la televisione. Jade sembra il settimo cielo, ha una nuova relazione, è felice ed emozionata. Anche Brandy è follemente innamorata di Jade, avrebbe fatto di tutto per lei. Ma in questa nuova convivenza non è tutto rose e fiori. Jade non lavora e non studia, mentre Brandy invece lavora tutti i giorni e si impegna molto nello studio. Quando torna a casa trova sempre Jade in camera spapparanzata a letto col suo computer. Sta spesso online sui social, così come Brandy, ma quest'ultima, a differenza di Jade, si dà da fare. Ha le giornate occupate, mentre Jade neanche ci prova a cercare lavoro. D'altro canto Jade inizia a sentirsi di nuovo in gabbia. Non ha una macchina per spostarsi, Brandy è tutto il giorno fuori casa e lei non vede una via d'uscita. Arriviamo al gennaio 2011, Brandy esce di casa una mattina e Jade si affretta a frugare in camera. Le ruba il suo iPod e 300 dollari in contanti. Jade è al verde e a questo punto non vuole più stare da Brandy, ma senza soldi non può di certo allontanarsi. Esce quindi da casa di Brandy e prende un pullman per Baltimore per tornare a casa dai suoi genitori. Brandy quando torna a casa scopre inevitabilmente cosa ha fatto Jade e ci rimane malissimo. Soffre moltissimo, ha il cuore infranto. Da quel momento Brandy interrompe ogni contatto con Jade, non prova a chiamarla né a scriverle. Una volta tornata a Baltimore, Jade rincomincia a uscire con la sua prima ragazza del liceo, Ashley. Ha 20 anni ed è una ragazza molto dura, gelosa e negativa. Passano alcuni mesi e anche dopo aver fatto pace con Jade, Brandy non riesce proprio a voltare pagina. È ancora molto innamorata di Jade, vuole riaverla con sé e nella primavera del 2012 il suo desiderio sembra avverarsi. Jade la chiama dicendole che vuole vederla perché a casa se la sta passando male. Brandy dunque va a prenderla di nuovo. Il ritorno di Jade però non è affatto romantico, infatti appena entra a casa di Brandy posa la valigia che aveva preparato per andarsene di casa e le dice che un'altra ragazza la sta per passare a prendere. Quindi non aveva intenzione di rimanere da Brandy. Jade infatti corre dritta tra le braccia di Ashley che vive ancora con suo padre e sua madre e si definisce una disadattata che non riesce a integrarsi a diversi tatuaggi e anche lei è lesbica. Questo le crea problemi con i suoi genitori, specialmente con suo padre. Ashley si porta dietro tutti i suoi problemi ovunque vada, è una persona negativa, poco raccomandabile e non ha molti amici. Brandy prende male l'abbandono di Jade, ancora una volta soffre molto perché prova dei sentimenti per lei. Brandy infatti non riesce proprio ad allontanarsi definitivamente da lei nonostante ormai si sia trasferita da Ashley. Jade tra l'altro non aiuta certo Brandy a dimenticarla, ogni tanto si fa sentire e le chiede di uscire e Brandy non dice mai di no. Jade in realtà si fa sentire perché Ashley, la sua ragazza, non la accontenta, non le dà tutto ciò che chiede, non la vizia. Quindi ci pensa Brandy. Quando escono insieme, vanno al centro commerciale e Brandy le regala parecchi vestiti, pagandoli di tasca sua. Oppure le manda addirittura dei soldi. Quando Brandy riaccompagna a casa Jade, c'è ovviamente Ashley ad aspettarla. Ogni volta che Ashley nota che Jade ha delle buste in mano, segno che ha fatto shopping, le chiede immediatamente dove abbia preso i soldi. Jade risponde sinceramente, dice che ogni tanto Brandy le dà una mano, ma la relazione tra Ashley e Jade in quel periodo comprende parecchie bugie. Così da questo momento in poi, in Ashley inizia a ribollire la gelosia che poco a poco si trasforma in odio verso Brandy. Ashley nel marzo 2012 va quindi sui social e inizia a commentare tutti i post di Brandy. Usa un linguaggio volgare definendola inutile, senza valore e violenta. Arriva anche a contattare in privato gli amici e le amiche di Brandy, raccontando che in realtà la ragazza è una manipolatrice che sta ingannando tutti. Poi scrive un post sulla bacheca Facebook di Brandy dicendole, spero di riuscire a ucciderti prima che lo faccia il diabete. La verità però è che Brandy di queste minacce se ne frega altamente. I suoi amici sanno chi è davvero e non sarà certo un messaggio privato scritto da una sconosciuta ad allontanarli da lei. A questo punto capisce che deve cercare davvero di voltare pagina. Non tiene il broncio, non porta rancore. A dirla tutta non si arrabbia neanche più, semplicemente prova ad andare avanti con la sua vita. Nell'aprile del 2012 Brandy finalmente sta riuscendo a superare la storia avuta con Jade, tanto che esce con altre ragazze. Il 17 maggio 2012, a distanza di 16 mesi dalla fine della relazione con Jade, Brandy è quasi tornata a quella di un tempo ed è di nuovo pronta a mettersi in gioco. Esce dalla sua camera, scende le scale e dice a sua nonna che va a trovare un'amica. La saluta e le promette che sarebbe tornata presto a casa. Da quel preciso momento nessuno riuscirà più a sentire o a vedere Brandy. Quello stesso giorno, Jade, la ex di Brandy, porta Ashley in ospedale a seguito di una caduta. Quest'ultima posta anche le foto dei lividi sui social, raccontando quello che le è successo. E mentre Ashley posta le sue chimosi ovunque, Brandy ha smesso di pubblicare contenuti sui social e non è affatto da lei. I suoi amici si allarmano perché non riescono a contattarla telefonicamente e iniziano a chiamarsi a vicenda. Qualcuno ha visto Brandy oppure l'ha sentita nelle ultime ore? La risposta, purtroppo, è sempre la medesima. No. Nel frattempo la nonna si rende conto che Brandy ha dimenticato a casa lo zainetto contenente l'insulina. Potrebbe essersi sentita male e forse era per questo motivo che non era tornata a casa e nessuno riusciva a contattarla. A questo punto avverte la mamma di Brandy, Carrie, che si precipita subito lì e prova a connettersi ai social media che usa di solito sua figlia per reperire informazioni utili. Si mette in contatto con gli amici di sua figlia ma purtroppo nessuno sa dove sia finita Brandy. Carrie a questo punto denuncia alla polizia la scomparsa di Brandy. Viene segnalata come potenziale emergenza medica per via del diabete, ma non viene considerata un'urgenza perché Brandy è adulta e può muoversi come vuole. Mentre attendono notizie da parte della polizia, i familiari e gli amici di Brandy portano avanti le loro ricerche. Sono tutti preoccupati per Brandy perché non è il tipo di ragazza che si allontana da casa per così tanto tempo senza avvisare. Stampano dei volantini, poi tutti insieme li vanno ad appendere ovunque in città e li postano sui social. Un'amica di Brandy, Christy, decide di andarla a cercare di persona nella zona dove sapeva che la giovane era diretta l'ultima volta che l'aveva sentita. Ovvero a casa di Ashley per vedere Jade. Christy spera con tutto il cuore di vedere la macchina di Brandy parcheggiata da qualche parte, a lato della strada, perché magari si era fermata a casa di qualcuno per chiedere aiuto. Mentre Christy è in auto a un certo punto però si perde. È davvero spaventata. L'inquietudine non la lascia, quindi è costretta a tornare a casa. Brandy è scomparsa da più di cinque giorni quando sua madre riceve una chiamata dalla polizia. L'avvisano che il ripetitore di Midville aveva agganciato il telefono di Brandy. Lei e Christy così si dirigono lì. Appendono i volantini nella zona e vanno a bussare casa per casa chiedendo se qualcuno avesse visto Brandy. Ma continua a non esserci alcuna traccia di sua figlia. A questo punto decidono di far visita di persona a Jade e ad Ashley. Christy conosce l'indirizzo perché Brandy il giorno in cui è sparita glielo aveva scritto insieme a un messaggio. Un po' inquietante dove diceva che se le fosse successo qualcosa almeno lei avrebbe saputo dove si trovava. Quando Carrie e Christy arrivano a casa di Ashley chiedono immediatamente a quest'ultima e a Jade se hanno visto Brandy. Le due ragazze rispondono che in realtà Brandy non è mai arrivata a casa loro. Carrie però non ci crede. Insiste e chiede dov'è sua figlia. Cosa le è successo? Il padre di Ashley a questo punto si mette in mezzo dicendo che probabilmente Brandy si è persa oppure si sta nascondendo da loro. Carrie ha mille pensieri che gli passano per la testa. Arriva anche a pensare che Brandy voglia solo stare da sola e che si stia nascondendo in casa di Ashley. Ma questo comportamento non è proprio da Brandy. Così Carrie e Christy per nulla convinte si rimettono in macchina per tornare a casa. Ma pochi minuti dopo Carrie riceve una chiamata dal telefono di Jade anche se in realtà è Ashley quella che sta effettuando la chiamata. Le dice che l'auto di Brandy è a casa sua e che dunque deve tornare a prenderla. Carrie a quel punto le risponde «Cosa? Aspetta un attimo, ci siamo appena viste e mi hai detto che non era mai arrivata da voi». Ashley ripete «Devi prendere l'auto». Poi termina la chiamata. Quel giorno i genitori di Ashley in effetti avevano trovato l'auto di Brandy nel loro garage e la madre di Ashley aveva chiamato la polizia. La targa risulta essere di Brandy e l'auto è pulita. Così anche la polizia contatta Carrie e le chiede di prelevare l'auto da casa di Ashley sebbene sia una prova potenzialmente incriminante. Carrie a questo punto non ce la fa più a trattenersi e dice «Mia figlia è scomparsa da giorni ed ora magicamente ritrovate la sua macchina?» Gli agenti gli rispondono che sì, hanno ritrovato la sua macchina e deve occuparsi lei di riportarla a casa. Carrie fa un respiro profondo, prova a calmarsi e chiede agli investigatori cosa ci fosse dentro quella macchina. Loro le rispondono che in realtà non c'è nulla all'interno della macchina, è perfettamente pulita. È a questo punto che Carrie ha una certezza. Qualcosa allora non va davvero. In effetti la macchina è fin troppo pulita per essere di Brandy in quanto la ragazza era disordinata e la sua macchina era sempre piena di cartacce o bottigliette vuote. Ashley dice alla polizia che Brandy era arrivata a casa loro ma poi se n'era andata con un'altra ragazza. Aveva preso delle cose dalla macchina e si erano allontanate insieme in cerca di un passaggio. Carrie a questo punto dice alla polizia chiaramente «Non può essere andata così, mi dispiace, non ha senso, quindi non vengo assolutamente a riprendere quella macchina. Siete voi che dovreste indagare sul perché una ragazza abbia affrontato un viaggio solo per arrivare a casa di Ashley, che neanche conosceva bene, per lasciare lì la macchina ed allontanarsi. Poi con chi? Che amica! Ma soprattutto, aggiungo io, Brandy aveva la macchina, quindi che senso aveva chiedere un passaggio?» La polizia locale però è reticente. Così Carrie, frustrata dalla situazione, la mattina dopo apre il computer e posta su vari social tutto ciò che è accaduto a sua figlia e come le aveva risposto la polizia. Dopodiché chiede semplicemente aiuto. Arriva addirittura a chiamare l'FBI. Ad un'ora dalla chiamata dell'FBI, magicamente, la polizia la chiama e si fa viva. Ora, Carrie ha dovuto per forza mettere in dubbio la loro professionalità per essere ascoltata e questa cosa, a me, fa davvero rapprividire. Ma è possibile che la polizia si muove solo se viene sputtanata sui social, perdonate il termine? Assurdo! Beh, la polizia deve fare il suo lavoro. Perché? Ci sono dei casi in cui la polizia il suo lavoro non lo fa? Perché? In realtà tutte le poche moste fatte dalla polizia per questo caso mi fanno rapprividire. Non hanno indagato. Anzi, hanno chiesto a Carrie di riportarsi a casa una prova che avrebbe potuto essere determinante per scoprire cos'era successo a Brandy, ossia la sua macchina. A questo punto è il 23 maggio. La polizia, in ogni caso, si affretta a dire a Carrie che l'auto è sotto sequestro e che sono in corso le ricerche per trovare Brandy. Ma buongiorno, signori investigatori! Dormito bene? Volete, non so, un tè o un caffè per riprendervi da questo lungo sonno? Mamma mia, che nervi! Chiaramente gli investigatori decidono di risentire Ashley e Jade, ma, al loro arrivo, i genitori di Ashley, li informano che le ragazze erano uscite la mattina presto e che quindi non erano in casa. Non riescono a mettersi in contatto con loro. Ora che le ragazze scomparse sono tre, le indagini fanno un deciso salto di qualità. I genitori di Ashley lasciano entrare gli investigatori in casa che vanno direttamente nella stanza di Ashley e notano subito delle scarpe da ginnastica sulle quali c'è una traccia di sangue. A questo punto capiscono finalmente che è stato commesso un crimine. Gli investigatori diffondono la descrizione delle due ragazze e gli agenti che sono di turno vengono avvisati di tenere gli occhi aperti. Qualche ora dopo le ragazze vengono rintracciate da un agente fuori servizio. Mentre guidava con la sua auto privata ha notato due ragazze uscire dal bosco in un'area in cui di solito non ci si avventura. Così l'agente si è offerto di dargli un passaggio e dopo ha chiesto loro di seguirlo in centrale. Dato che Ashley risultava scomparsa è la normale prassi portarla in commissariato proprio per chiarire tutta la faccenda. Durante l'interrogatorio Ashley ripete io non so niente non posso aiutarvi scusate. Contemporaneamente Jade che ovviamente è sotto interrogatorio ma in sede separata dice in realtà Brandy è venuta a casa di Ashley ed è stata lì per un po' ma è rimasta giusto per qualche minuto ha detto che doveva incontrare un'amica di nome Jamie. Quindi ecco che la versione cambia ora Brandy era andata a casa di Ashley ma era rimasta lì solo per qualche minuto e poi si era diretta verso una stradina per andare via con un'amica. È chiaro che Ashley e Jade stanno nascondendo qualcosa. Mentre la polizia valuta le versioni delle ragazze Ashley cambia tattica. Dice agli investigatori che in realtà ha molto da raccontare ma prima vuole vedere Jade. I detective fanno quindi incontrare le due ragazze. Ovviamente ascoltano la conversazione delle due ragazze. Non confessano nulla ma è chiaro che hanno paura. Parlano di finire in carcere per 20 anni e non dicono nient'altro. Mentre le ragazze confabulano gli agenti a casa di Ashley notano delle tracce su un sentiero che porta lontano dall'abitazione. Si inoltrano nel bosco, lo stesso bosco da cui erano uscite Ashley e Jade quando l'agente fuori servizio le ha trovate e le ha portate in centrale. Con loro hanno anche dei cani molecolari. Quando si avvicinano a una zona in cui spicca un fortino improvvisato i cani iniziano ad agitarsi. Gli agenti si avvicinano ancora di più e notano che sembra esserci una zona in cui la terra è stata smossa. Così iniziano a scavare e purtroppo trovano il corpo senza vita di Brandy. La polizia locale si presenta quindi a casa dei nonni di Brandy per dare la tragica notizia. Dopodiché vanno anche a casa di Carrie verso le due del mattino. È così che Carrie viene a conoscenza della morte di sua figlia. A questo punto i detective entrano nella stanza in cui Ashley e Jade stanno parlando per riferire loro che quel caso non è più il caso di una persona scomparsa. Bensì è un'indagine per omicidio. Jade esclama Non siamo state noi! Ashley ribatte È stato mio padre! È stato lui! Ashley racconta che stavano parlando con Brandy della sua amica. Brandy aveva iniziato a parlare del fatto che si fossero baciate da poco. suo padre l'ha sentita e arrivato da dietro l'ha definita malata e pervertita, ha preso una pala e l'ha colpita più volte in testa. Le ragazze stavano quindi proteggendo il padre di Ashley fin dall'inizio. La polizia non sa se credere alle ragazze, ma non ci vuole tanto prima che emergano altre prove che vanno in tutt'altra direzione. Quando la gente ha visto le ragazze uscire dal bosco, portavano sulle spalle degli zainetti e all'interno di quegli zainetti trovano anche i loro diari. E il contenuto di quei diari è terrificante. Nel diario di Ashley c'è una pagina che è stata scritta proprio il 21 maggio 2012, in cui ammetteva le sue azioni. Si legge su quel diario, non mi sono mai sentita così viva. Mai. Voglio farlo ancora. E ancora. Ma Ashley non è la sola ad aver scritto qualcosa. Anche la ragazza che Brandy amava aveva molto da dire. Inizialmente Jade si era ripromessa di non scrivere nulla sull'accaduto, perché sarebbe stata una prova schiacciante. Ma la tentazione di metterlo nero su bianco è stata troppo forte. Jade ha scritto, Ieri è stato l'inizio di una nuova vita, una vita di tormento, malvagità, mani insanguinate e vestiti imbrattati. Ho trovato la mia vocazione, una nuova dipendenza che il mondo abborrisce. Ma noi bramiamo questa vita. Ne vado fiera. Non saremo mai scoperte. Siamo state brave. Abbiamo commesso il crimine perfetto. E io ne sono orgogliosa. Così gli agenti entrano nuovamente nella sala degli interrogatori e gli sbattono sotto il naso i loro diari dicendo Il vostro tempo insieme è finito. Poi indica Ashley ed esclama Portatela via immediatamente. A quel punto Jade confessa il loro crimine. Quando Ashley confessa il crimine è fredda e distaccata, mentre spiega il modo in cui hanno ucciso Brandy. Le due dicono che prima avevano scavato una buca, Poi Jade aveva attirato Brandy nel bosco dicendole che voleva costruire un fortino con lei. A un certo punto era sbucata fuori Ashley e lei e Jade avevano iniziato a prendere a calci e a pugni Brandy. Infine mentre Ashley la teneva ferma Jade l'aveva colpita con la pala. Ma Jade quando aveva colpito Brandy aveva preso per errore anche Ashley provocandole dei brutti lividi. Ecco perché erano andati in ospedale dicendo che Ashley era caduta dalle scale. Le avevano poi versato dell'acqua addosso. Infine Jade aveva detto ad Ashley che Brandy aveva paura di essere sepolta viva. Per questo motivo l'hanno messa nella buca e l'hanno ricoperta di terra. Dicono che pensavano che fosse comunque già morta. Brandy però non era morta e nei suoi polmoni vengono trovati fango e sporcizia. È stata davvero sepolta viva. I risultati dell'autopsia dimostrano che Brandy aveva ferite a seguito di un trauma da corpo contundente. Una frattura e 15 lacerazioni al cranio. Brandy è stata brutalmente assassinata e lasciata morire sottoterra. Ma non è finita qui. Le ragazze in seguito bruciano tutta la sua roba portano la sua macchina in garage e la puliscono da cima a fondo per non lasciare impronte digitali. Nonostante l'ovvia pianificazione e il maldestro insabbiamento le ragazze insistono che l'omicidio non fosse premeditato. Più precisamente insistono sul fatto che fosse solo un tentativo da parte di Ashley di spaventare Brandy. In uno degli interrogatori con la polizia Jade afferma che Brandy era stata violenta con lei durante la loro relazione. Ma non c'erano prove a sostegno non c'erano denunce né testimoni che potessero confermarlo. I diari le inchiodano ed entrambe confessano. Alla fine patteggiano entrambe per omicidio di primo grado che in Pennsylvania equivale al carcere a vita e vengono recluse nella prigione di stato. Le ragazze hanno ammesso le proprie colpe ma c'è ancora qualcosa che non spiegheranno mai. In movente. Probabilmente cercavano di dimostrarsi a vicenda quanto tenessero l'una all'altra. Jade voleva far vedere ad Ashley che le era fedele e che non voleva avere Brandy nella sua vita. Ashley voleva fare la stessa identica cosa con Jade arrivando anche ad uccidere per il suo amore. Per gli amici e i familiari di Brandy nessuna spiegazione cancellerà mai il dolore della perdita. Brandy viene cremata in quanto sua madre dice chiaramente che non voleva seppellirla di nuovo perché c'era già passata una volta. Conserva le ceneri in una piccola boccettina che tiene al collo come pendente di una collana. Carrie dice che in questo modo sua figlia cammina con lei ogni giorno è sempre con lei. E c'era in qualche modo anche in tribunale al processo. Al posto di una tomba la famiglia crea una panchina commemorativa con uno straziante pitaffio in memoria di Brandy Steven Rosin. Mantieni la calma e fatti forza. Detto questo io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se conoscevate questo caso che io ho trovato davvero tremendo. Credo che davvero Ashley fosse di una crudeltà unica ma sicuramente anche Jay dalla sua parte di crudeltà in questo caso perché credo che abbiano scelto il modo peggiore per uccidere Brandy e non se lo meritava non se lo meritava assolutamente. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Come sapete io vi leggo sempre. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!